2 minuti 2, fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Un piccolo passo, questa città l'ha fatto, una piccola soddisfazione che poi può essere considerata anche grande, dipende dal punto di vista con cui la si analizza, la città l'ha avuta ed è quella di non vedere chiusa la mostra sul mito d'Ulisse in un periodo, quello natalizio, in cui la gente ha più possibilità di viaggiare, di organizzare qualche gita e magari di venire a visitare la città. In extremis, l'ultimo giorno, all'ultimo momento, è successo che la mostra sul mito d'Ulisse è stata posticipata, nel senso che chiuderà per dieci giorni il tempo di imbacchettare, inviare ai musei non siciliani i pezzi che hanno prestato e poi sostituirli con quelli del carico della nave e con altri insomma collegati al tema del viaggio. Gela non ne mancano. Ci siamo arrivati per il rotto della cuffia, ma ci siamo arrivati, si tratta solo di aspettare la conferma da parte della regione sulla data di riapertura della mostra e questo risultato che è stato raggiunto dimostra che quando si vuole una cosa si può fare e dimostra anche che Gela, se veramente vuole seguire questo trend, se veramente vuole approfittare di un evento culturale importante per sognare di risalire la china rispetto ai ritardi e ai tanti vuoti economico-sociali che ha, può farlo investendo ancora di più su questi eventi, cercando di diventare una città normale perché lottare per avere una mostra che viene prorogata e poi finire su tutti i tg perché bruciano le auto in pieno giorno e in pieno centro oppure per altre azioni malavitose, per altre situazioni poco piacevoli, significa poi non riuscire a fare passi avanti, significa che fai come il gambero, un passo avanti e dieci indietro e questo dobbiamo pensare in maniera concreta che bisogna tornare in tutti i sensi a essere una città normale, altrimenti non ci sarà mostra che tenga e non ci sarà proroga che tenga, sarà tutto solo un grande sogno che svanisce quando pensi di averlo raggiunto. Al prossimo appuntamento. Due minuti due, fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.